Campagna Mica News torna con un focus sull'ortofrutta che ha registrato un dato storico ma non si tratta di una bella notizia per l'agricoltura italiana ma parleremo anche di come affrontare una tematica che da troppo tempo colpisce la nostra società quella degli infortuni sul lavoro e poi spazio al progetto di Coldiretti nelle scuole e al compleanno del mercato coperto di via Montebello. Per la prima volta da almeno 30 anni il valore delle importazioni di frutta e verdure fresche in Italia ha superato quello delle esportazioni con un impatto sui consumi degli italiani e sul reddito dei produttori e quanto emerge dall'analisi dell'osservatorio Coldiretti le importazioni di ortofrutta fresca hanno superato i 5 miliardi di chili facendo registrare un più 14% mentre le esportazioni sono ferme a 3,6 miliardi di chili addirittura in calo rispetto all'anno precedente. Ultimamente abbiamo partecipato con assiduità sia a Cibus a Parma sia a Macfrutt a Rimini dove chiaramente il discorso delle nostre imprese è stato assolutamente tenuto in considerazione con anche delle analisi che purtroppo non è che ci fanno così piacere e ci danno così tanta soddisfazione. Intanto dobbiamo dire che dopo oltre 30 anni il valore dell'import ha superato quello dell'export, sono 6,1 miliardi il valore dell'export e purtroppo sono 6,4 miliardi il valore dell'import e quindi questo determina sicuramente a livello anche reddituale delle nostre imprese una situazione di attenzione congiunturale. Ne è un esempio il caso di un agricoltore ferrarese. Ieri ho ricevuto una telefonata da un nostro produttore che produce cipolle e che chiaramente cipolle è una primizia sia sotto l'aspetto salutistico che quello chiaramente a chilometro zero anche proprio per la qualità del prodotto e nel colloquio del commerciante. Per collocare il proprio prodotto purtroppo il ragionamento è che siamo subordinati al fatto che l'acquisizione del nostro prodotto deve essere conseguente allo smaltimento di quelle che abbiamo importato e magari le abbiamo importate dall'Olanda, non so se sono spacciate come olandesi o come italiane effettivamente e quindi però che creano una concorrenza assolutamente sleale di disagio. Tant'è vero che non siamo andati neanche entrati troppo nella trattativa perché comunque primo non c'è spazio e secondo luogo qualora ci fosse spazio sicuramente i centesimi riconosciuti al chilo sono inferiori ai costi di produzione. Quindi capite che sicuramente sono situazioni queste che vanno immediatamente come sempre affrontate. Ma come devono essere affrontate secondo Coldiretti? Ci sono delle proposte chiaramente in merito. Una di quelle è riprendere a ragionare sull'ultima parte della trasformazione, il cosiddetto codice doganale dove non è possibile che una semplice lavorazione nell'ultimo stadio prima della vendita possa trasformare un prodotto estero da un prodotto italiano dove effettivamente poi crea queste spiacevoli situazioni e queste distorsioni. Chiaramente quelle cipolle del nostro agricoltore speriamo vengano collocate il prima possibile e vengano collocate assolutamente ad un prezzo ragionevole. Abbiamo bisogno della sensibilità dei cittadini e dei consumatori perché questa purtroppo è una piaga che tutti i giorni insomma investe il nostro patrimonio agroalimentare. Infortuni sul lavoro se ne parla sempre troppo poco, se ne parla quando avvengono in maniera eclatante anche purtroppo nel territorio ferrarese ma è un fenomeno che continua a falcidiare e a colpire la società. Purtroppo è così, dalla fonte INAIL i dati al 31 marzo di quest'anno c'è un incremento a livello nazionale dei casi di infortunio che passano dai 144.500 dell'anno scorso agli oltre 145.000 di quest'anno. In linea anche a livello regionale perché anche nella nostra regione sono aumentati passando dai 18.500 e 18.600 circa, Ferrara è in linea, c'è un solo infortunio in più nel 2024 rispetto al 2023 sempre nel periodo gennaio-marzo. Quindi stiamo parlando di numeri importanti che purtroppo finiscono sulle pagine della cronaca solo per i casi più gravi o addirittura mortali. Nella nostra regione l'anno scorso gennaio-marzo abbiamo avuto 14 casi di decesso per infortunio sul lavoro, quest'anno sono 16. Nessuno nella nostra provincia, ma 16 morti in tre mesi in occasione di lavoro sono numeri importanti che fanno male quando li vediamo sulla stampa. Quindi prestare sempre attenzione alle norme sulla sicurezza, fare attenzione quando si è sul lavoro. Però l'incidente, l'imprevisto può succedere, purtroppo succede. Cos'è un infortunio? L'infortunio è un danno alla salute causato da una causa violenta in occasione di lavoro. Questi sono i tre elementi essenziali dell'infortunio. Danno alla salute, causa violenta, occasione di lavoro. Quindi tutte le volte che ci facciamo male, mentre lavoriamo o anche mentre andiamo o torniamo dal lavoro, il cosiddetto infortunio in itinere, sono eventi che devono essere denunciati. Va fatta la denuncia di infortunio dall'Ineel. Da lì partono tutte le tutele dell'istituto e Epaca è qui per aiutarvi a seguire queste tutele e a far valere i vostri diritti nei confronti dell'istituto, perché non c'è solo quella che viene chiamata indennità di temporanea. Quindi l'indennizzo, il compenso, la sostituzione della retribuzione. Quindi quella che è l'indennità dell'Ineel che va a indennizzare il periodo in cui la persona non può andare al lavoro perché è infortunata. Però ci sono anche dei riconoscimenti relativi al danno che può rimanere alla persona. Cioè in seguito di un infortunio, quindi al danno alla salute che ho avuto in occasione di lavoro, mi possono rimanere dei cosiddetti postumi che possono essere indennizzati. Quindi noi possiamo aiutarvi a far valere questi diritti e avere il riconoscimento dei giusti indennizi per il danno subito. Ci stiamo avvicinando un momento di festa per Coldiretti, ma anche per gli studenti e le scuole che hanno partecipato a un progetto di Coldiretti Impresa Donna che si sussegue ormai da tanti anni. È diventato un appuntamento formativo molto atteso anche dagli studenti, immagino. Sì, quest'anno il progetto che per l'anno 23-24 porta il titolo di Impariamo dall'agricoltura il valore del cibo. È stato divulgato a tutte le scuole della provincia di Ferrara di ogni ordine e grado e ci permette di portare a scuola la corretta alimentazione, la sostenibilità ambientale, il chilometro zero che sono le cose più importanti per Coldiretti, per Coldiretti Donna. Quindi entrate proprio come Coldiretti nelle scuole per fare delle lezioni specifiche. Sì, Sabrina Zanelli che è la responsabile di Coldiretti Donna, Monia Dalla Libera, Elisa Marzola, Franchi Marilena sono solo alcuni dei nomi delle nostre componenti, del nostro comitato che appunto vanno in classe oppure al mercato coperto di Grisù o di via Montebello 43 e spieghiamo il mondo delle api, spieghiamo l'IGP della pera, spieghiamo le funzionalità delle erbe officinali e tanto altro. Ecco, un'occasione per scoprire e un'occasione anche per stare insieme lo sarà il 22 maggio quando otterrete l'incontro conclusivo. Esatto, abbiamo scelto proprio il nostro spazio dell'agrimercato di Grisù di via Poledrelli 21 il 22 maggio alle ore 10 per questo appuntamento. Abbiamo 160 ragazzi che assisteranno alla premiazione, alla merenda rigorosamente a chilometro zero e poi ci sarà anche un'attività ludico-motoria perché vorremmo fin da ora dare un po' uno spunto per unire cibo sano e sport che sono quelli, sono gli argomenti che ci danno un po' lo stimolo anche per continuare nei prossimi progetti. Un progetto molto esteso nei numeri, lo abbiamo sentito, molto esteso anche sul territorio perché avete toccato tante realtà ferraresi. Sì, è stato assolutamente un piacere perché non ha partecipato solo l'infanzia e la scuola primaria di Ferrara ma anche la scuola di Quartesana, di Masi Torello, di Vigarano Mainarda e siamo riusciti ad arrivare fino a Mesola. Il 2024 è un anno importante per Campania Amica in Via Montebello perché festeggia il primo lustro i primi cinque anni e lo fa con diverse iniziative ma anche con un'occasione da ricordare cioè che Campania Amica in Via Montebello non è solo la vendita al piano a terra ma è anche il suo palco è sempre molto vivo. Certo, assolutamente. Il nostro mercato proprio il 25 maggio andrà a compiere cinque anni quindi per noi è un momento assolutamente importante che vogliamo festeggiare nel migliore dei modi e vogliamo proprio celebrarlo anche ricordando a tutti i nostri clienti, tutti i nostri consumatori che il nostro mercato, quello che comunemente chiamiamo la nostra chiesa perché ricordiamo sempre che è una chiesa sconsacrata, è fatta anche del suo palco quindi le opere d'arte i nostri consumatori le possono trovare sì al piano terra e sono quelle che i nostri produttori gli possono offrire quotidianamente quando vanno a fare spesa ma abbiamo anche inaugurato proprio sabato 18 una mostra del pittore Fernando Adriao e dei suoi studenti che è l'università della terza età quindi che saranno visitabili sul suo palco del nostro mercato dove troverete anche i tavolini per poter eventualmente fare un agriaperitivo quindi acquistare i prodotti dai nostri produttori e consumarli sui tavolini in mezzo alle opere d'arte proprio di Fernando e dei suoi studenti quindi anche un momento importante, il mercato è sempre più un luogo di prossimità quindi non solo un luogo di toccata e fuga dove fare la spesa ma un luogo anche dove fermarsi, dove fare due chiacchiere e dove vedere anche comunque opere d'arte sicuramente apprezzabilissime perché comunque fatte da pittori locali e soprattutto da pittori non professionisti ma comunque pittori che hanno nel cuore la campagna e hanno soprattutto voluto scommettere sul progetto nostro del mercato di Campagna Amica. Al prossimo episodio